ATTENZIONE WARNING Il seguente video contiene scene esplicite di Pony Sconsigliamo la visione a un pubblico facilmente impressionabile Lo staff di Age of Video Gamers non è responsabile di nessun danno cerebrale permanente Ciao a tutti ragazzi e bentornati con questo mio video su Amnesia Oggi siamo sempre sulla nostra custom map The Small Horse 1 The Escape Perchè per loro l'abbiamo fatto la scorsa volta con Davide Perfetto non perdiamoci in chechere andiamo subito Product make and take traces of pony perfetto Il gioco l'ho già fatto fino alla porta Fino a questa porta qua perciò l'avevo aperta e poi dopo ho visto la luce e non sono più andato avanti Musichetta strana Barchetta inutile completamente inutile Va vabbè Allora cassetti Se non sbaglio c'era qualcosa No scherzavo Non c'è niente No qualcosa c'è Due grandi pozioni d'olio Va bene Andiamo avanti Ecco qua c'era questo Basta Mi sembra che è dopo Qua prendo il corno E Vado avanti Perfetto Qua Adesso non so più come andare avanti Perciò di cui non si va Andiamo verso la luce Cos'è sta roba Caccio Via 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 Non ci serve Iniziamo malissimo Vabbè non ho fatto tanto paura per fortuna Ah bella stanza Allora Porca troia oh Sono specializzati a farmi morire questi Ma prendiamo la lanterna che non si sa mai Allora parte buia No parte luce Meglio Chiuse Ma Non voglio guardare quello Cos'è quel coso poi Che merdoni Chiusa Ecco immaginarsi da che parte devo andare Da quella buia Logico Immaginarsi se mi fanno fare Le cose più facili Vai andiamo 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 Ah No Non fa ridere Non fa ridere Calma Non è che esce qualcosa Ah no Minchia Ci mancherebbe pure altro Allora Prendiamo Cos'è sta roba Vabbè Pozione di sanità Non mi piace sto gioco Assolutamente È schercerino Perfetto Dai video di Enea So cosa serve Serve per Accendere Le cose Via Ok Qua invece c'è qualcosa Cos'è Ok Sorvoliamo E andiamo avanti Adesso mi compare qualcosa No eh Bene Molto bene Ma che Un pony Oh che bello Un pony Ok Ah no giusto È chiusa magari Ho entrato la chiave Vai Ci avevo ragione Ma cazzo Sti rumori Oh Mamma mia Eh Mi farà morire Piclock La spada Qui Niente Niente Assolutamente niente Vabbè Andiamo avanti E' difficile Guardare il personaggio Quando è in queste condizioni Va bene È chiusa La chiave L'abbiamo messa A meno che Non serva La spada Ma è demenziale Sto gioco Una spada Per aprire una porta Mi dite Qualche cosa serve Cosa c'è No 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 Cos'è qualcosa Ma porca No no È il mostro di amnesia Quello lo so Guardando i video di Eneo Lo so che è quello Il mostro di amnesia Non va assolutamente bene Quando c'è Via via Qua bisogna scappare Altro che Che co Ehi Non mi fare butte Buono Dai dai Piglia 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 Chiave 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 Piglia 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 Tutto piglia tutto Piglia più che puoi Piglia più che puoi Piglia più che puoi Eh Cazzo cazzo Porca troia via 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 Amica qua bisogna scappare Cazzo cazzo Cosa mi inquadri sopra No 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 Mi prego No 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 Cos'è 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 No 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 Bisogna muoversi Boh ci sono le luci Via 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 Aiuto Aiuto Bisogna scappare Qui Bisogna scappare Via 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 Cazzo Via No no Ma che cos'è sta roba Via dietro Non so che è via dietro Cazzo rumori brutti Bene mo Bene mo Bec Immaginarsi Adesso La chiave giusta La prima Che culo Che c'ho spacciatissimo Ehi la Via 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 bisogna scappare Via Ecco Ma già si è aperta Ho qualcosa Perfetto No 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 Niente Ehm Ah si qui dietro Vedo Vedo qualcosa Via 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 Non riesci a scappare qui Una Due Niente Entriamo qua Entriamo qua Entriamo qua No Non mi dire che Cos'è tutta sta roba No Cos'è sti rumori Cioè adesso io devo stare qua Ad avere tutti i singoli cassetti Per trovare qualcosa No eh Eh cos'è un imbuto Cosa mi serve Cominciamo da capo Cioè non so Questo non c'era Che cazzo è successo Allora secondo me Mi volevano fare gli scherzetti E quel coso là E quello che dovevo trovare Nei cassetti Solo che volevano fare i fulbi Cioè io adesso mi mettevo A cercare tutti i cassetti Non c'era niente E poi alla fine mi trovavo Sto coso qua Secondo me è così A massimo poi Se non è così Ritorno indietro a cercare Questi cassetti O che dire Cos'è quel coso Cos'è quel coso Ma già è giusto Proviamo col bam 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 Ma al massimo Era quello mi sa Sì ragazzi Via 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 No 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 one no 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 Si ce l'ho fatta So scappato Boh vabbè non me ne frega Devo muovervi Via 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 No 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 qua non va bene Si mettono troppo male le cose Mettono malissimo le cose si si lo so che si metto veramente ma le cose porca via 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 non devono devono portare un po' niente per i nemici pittorio riguardo riguardo per provo a provo a provo a provo a provo a provo a il nostro amico quello strano perciò come l'ho messo l'idea bs il tassat sterni il scambio tasto questo è stato dietro la sua vita il mini team ecco la scuola boni sponi non fare sulla faccia boni non fare quella fa boni non mi uccidere mi ha ucciso per la stasera della stasera se ti ha ucciso dove continuare poteva la prossima puntata vabbè allora perciò fatemi fare un pochettino il punto della situazione adesso penso si è finito ma si sarà finito allora ragazzi perfetto questa mappa mi ha fatto paura molta paura troppa paura veramente paura ma veramente paura c'erano certi pezzi che ovviamente stavo sfasando però però spero che si faccia meno paura l'altra veramente lo spero che tutto il mio cuore proprio per il mio cuore mi verrà un infarto se la prossima fa più paura di questa ci sono veramente alcuni pezzi in cui mi compariva tipo il porcello davanti che lontano via vabbè comunque ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto lasciate un commento barra un mi piace barra condividete barra fate quello che volete perciò vi do appuntamento al prossimo video su penumbra o sempre su qualche custom app di amnesia molto probabilmente su the small horse 2 e perciò vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto ciao 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 ciao